La didattica a distanza per me è un metodo innovativo ed efficace che permette la continuità scolastica anche in un momento così difficile supportati da insegnanti capaci Permette di mantenere una rutinarietà ordinaria indispensabile nei momenti di difficoltà straordinarie come questi e di proseguire la formazione e la formazione dei nostri figli rendendo tutti più consapevoli del valore prima dato per scontato del contatto diretto con i professori e con i compagni Il momento è fondamentale, logicamente ci sono dei pro e dei contro essendo dei pionieri di questa nuova tecnologia i contro possono essere quelli del coordinamento e della connessione che può saltare in tanti Ritengo fondamentale la didattica a distanza la celerità con cui sono state attivate le lezioni e la grande disponibilità da parte degli insegnanti sta permettendo quotidianamente ai ragazzi di avere una continuità scolastica Penso che questo vi aiuti molto nel mantenere il gruppo classe, nella concentrazione e magari superare anche insieme qualche piccola paura di questo momento Grazie! 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 Grazie!